D'aspo per otto ultra del Bari, i provvedimenti sono stati emessi da quest'ora di Bari. I tifosi bianco-rossi sono accusati di violenza per due distinti episodi accaduti nei giorni scorsi. Il primo risale al 20 maggio, quando prima dell'inizio della partita Bari-Trapani, all'ingresso delle squadre in campo alcuni ultra accesero numerosi fumogeni che causarono un ritardo di sette minuti dell'inizio della gara. In questo caso i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati cinque, uno della durata di cinque anni con obbligo di firma, quattro della durata di tre anni. Il secondo episodio, per il quale i d'aspo emessi sono tre, risale invece al 22 maggio scorso quando sulla strada statale 16, nell'area di servizio Kuwait al chilometro 806, alcuni tifosi baresi aggredirono un gruppo di nove tifosi foggiani, diretti a Lecce per assistere alla gara Lecce-Foggia.